Per la Val di Centro abbiamo invece con il numero 8 Gianfrancesco Pagliucci con il numero 9 Cannavo Scalabatto con il numero 14 Dio Pugano Amastonelli Giulio con il numero 4 Francesco Pagliucci con il numero 10 Riccardo Pagliucci con il numero 20 Impossiano da Silvio con il numero 16 Fugini con il numero 15 Giovanni Romano con il numero 7 Pugini Pagliucci Pagliucci Sanzoni Buona partita a tutti! Battagliucci scroll Battagliarson V blaming Battagliarson Battagliarson Battagli堯 Battagli Adrian Battagliuchi Battagli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti